Bene, salve a tutti salve a tutti gli amici del canale YouTube e non solo, dei vari social e di tutti coloro che quotidianamente ho il piacere di ospitare in Skype saluto tutti in modo che sgombro il campo dalla prima parte. Se vuoi effettivamente apprendere le prime cose all'interno di Unreal se vuoi muovere i primi passi all'interno di Unreal o se vuoi semplicemente approfondire e perché no intercambiarci alcune nozioni riguardo questo potente motore grafico, non devi fare altro che andare su questa parte quindi www.patreon.com slash cryarchitecture e lì troverai tutte le sezioni basta cliccare su una sezione particolare e avrai tutti i video come già anticipato questa sarà il nostro sesto episodio andrà una parte che io denominerò in chiaro un'altra parte B quasi in contemporanea ok che andrà su su Patreon fallo fallo solo e mi raccomando questo è importante non ho bisogno di qualcuno che venga a fare razzia sul Patreon e poi insomma alla fine non era intenzionata quello che è il vero motivo per cui ho aperto questo canale certo servirà per finanziare alcune cose di cui ho già spiegato ma servirà soprattutto per creare un canale di interattività tra di noi in modo da poterci scambiare informazioni preziosi riguardo questo software voglio dire io non voglio rappresentare il Vangelo per voi e viceversa qualora ci fossero delle novità fate bene a comunicarnele sempre all'interno di Patreon lì stesso puoi comunicarmi se hai qualche particolare problema col software se hai un tuo individuale problema col software puoi propormi di magari integrare sempre all'interno di questo corso perché no io farò poi dopo più in là una cernita di quanto mi sarà domandato ovviamente e cercheremo di fare anche una serie di episodi su quello ok e quindi questo è molto importante non solo partecipando con una cifra irrisoria puoi fare tutto questo poi magari con qualcosina in più metto anche a disposizione tutto un enorme mole di lavori di progetti Unreal di addons di blueprint costruiti a lupo per determinate situazioni e puoi attingere anche a tutte quelle risorse in modo più o meno gratuito ok? detto questo se vuoi invece venirmi a trovare e visitare la mia galleria di lavori puoi farlo semplicemente sul mio marketplace che lo trovi su www.gunroad.com slash giovanni messina o come sempre nel caso volessi venirmi a trovare sui vari social beh, se vuoi venire su telegram basta cercarmi con la chiocciolina arc.k punto zero se vuoi partecipare attivamente al gruppo facebook puoi andare in questa parte qui e c'è www.facebook.com slash groups slash ue4.arkviz punto ita se invece vuoi iscriverti alla pagina e fammi sapere una qualsiasi un qualsiasi problema lo puoi fare invece alla pagina www.facebook.com slash ue4.it ok senza il 4 l'ho spiegato pure magari non voluta questa cosa ma può essere diciamo così utile sempre attraverso i social puoi farmi sapere una qualsiasi cosa qualora tu non volessi partecipare a Patreon ma volessi comunque avere questi corsi fruibili non preoccuparti iscriviti ai social fammelo sapere io in qualche modo ti girerò il link pubblico detto questo oggi di che cosa parleremo? abbiamo visto alla fine dello scorso episodio come è possibile creare degli oggetti static mesh che siano fruibili poi all'interno del motore stesso ok? si parte da delle geometrie che mette a disposizione Unreal e da lì puoi creare tutta attraverso una procedura si può avere l'oggetto bello e cucinato pronto all'interno del software ma la vera novità diciamo per quanto riguarda appunto la modellazione all'interno di Unreal è che con la 4.25 attraverso un potentissimo strumento di modellazione possiamo ricostruire bene o male un po' tutte le forme all'interno di Unreal ci pensate? anche in campo architettonico dove poi orienterò e faremo un esempio un breve piccolissimo magari non andremo a vedere i particolari perché dovremmo fare poi un progetto definitivo però vi farò vedere come è semplice magari creare i muri perimetrali magari creare delle aperture magari creare un battiscopa per così dire in modo semplice in pochi passi all'interno di Unreal che fino a poco tempo fa l'unico modo era quello di servizi di un software di terze parti e portare poi il modello all'interno di Unreal quindi vedremo come attraverso questo tool vedremo partiremo dall'installazione quindi dal plugin no dall'installazione dal caricamento del plugin e cercheremo di attraversarlo in modo trasversale ovviamente facendo degli esempi semplici non possiamo cioè voglio dire ognuno di quel pannello ha bisogno effettivamente di un'oretta per ogni funzione quindi ci dilungheremo veramente tantissimo però per farvi capire diciamo così il funzionamento ho preparato questo video per voi che spero sia di vostro gradimento come dico sempre se sei interessato e solo se sei veramente interessato a venire su Patreon puoi farlo in modo semplice supportandomi all'indirizzo se vuoi farmi sapere qualcosa vieni sui social o commenta anche pubblicamente questo video e io partirei con questa nuova con questo nuovo episodio ma come dico sempre non lo farei prima di indossare i miei occhiali e di lanciare magari la nostra intro bene rieccoci e prima di andare a vedere tutte le possibili modalità di lavoro all'interno della nostra viewport e quindi sotto il pannello mode che possiamo ripristinarlo nella posizione ovviamente dove lo avevamo nella versione 4.24 adesso c'è un comodo pannello a tendine quindi dice oltre a sviscerare dopo la possibilità di poter operare all'interno della nostra viewport nel pannello landscape quindi la possibilità di creare dei diciamo dei terreni il pannello foliage quindi la possibilità di aggiungere elementi come la vegetazione quindi foglioline detriti e quant'altro la possibilità di poter editare le nostre brush le nostre geometrie all'interno di Unreal e la possibilità di poter disegnare a vertici su un oggetto poligonale una mesh poligonale chiamiamola come vogliamo però continuandola sulla stessa falsariga ecco io continuerei con la modellazione e vi mostrerei come il mondo Unreal con questa versione 4.25 è totalmente cambiato lo so che adesso godrete come come dei ricci ma comunque ehm chi è quindi che non dovesse per un qualche motivo insomma avere la versione 4.25 per attingere a ciò che ci stiamo dicendo bisogna installare nella versione 4.25 a meno che tu non voglia usare la 4.24 con un plugin però ancora molto instabile eccetera eccetera quindi installa la 4.25 ma penso che tu lo abbia già fatto insomma se sei su questo corso bene ehm la prima cosa andiamo a creare una new folder ok ehm chiamiamola possiamo anche andare prima a crearla e poi a renominarla ovviamente chiamiamola lesson underscore 006 ok creiamo qui all'interno come facciamo sempre una cartella levels e poi man mano andremo nel caso ce ne fosse la necessità ad aggiungere altre cartelle ma per adesso va bene così andiamo a creare un nuovo livello sempre default utilizzeremo per adesso e andiamo a salvare questo livello all'interno della nostra cartella levels lo chiameremo come da nostro stile lesson underscore 006 ok perfetto fatto questo la prima cosa che dobbiamo fare per poter attingere al nostro pannello è recarci sotto plugin in questo specchietto che lo puoi raggiungere da setting ma lo puoi raggiungere anche da edit plugin ok è la stessa cosa ci porterà dalla stessa parte adesso nel pannello search qui andiamo a digitare modeling model attenzione che siamo medel ecco vedete modeling ok vedete che appare subito modeling tools editor mode non dobbiamo fare altro che abilitare questo pannello yes e andare a restartare il nostro bravo unreal adesso ovviamente impiegherà il tempo necessario per riavviare il progetto ma impiegherà ovviamente pochi secondi lo stesso è già precaricato in cache quindi vedete che ci ha messo veramente poco chiudiamo pure il pannello e adesso potrete notare sicuramente se andiamo sotto modes l'aggiunta di un nuovo pannello modeling andiamolo ad attivare attraverso fino a fino ad oggi diciamo fino almeno fino alla versione 4.23 creare degli oggetti all'interno di del mondo unreal era cosa estremamente diciamo così quasi articolata nel senso che ti consentiva di fare poco le forme a disposizione erano sempre quelle basiche classiche e quant'altro e invece appunto con questa novità vi farò vedere come cambia e si rivoluziona tutto il mondo unreal cioè noi potremmo realizzare degli oggetti semplicemente e completamente restando nel mondo unreal non ci credete? aspettate un attimo bene allora andiamo ad analizzare il pannello vedete che innanzitutto in testa abbiamo create transform deform polygraphs triangles e UVs normal ok? sono dei pannelli che man mano in questa chiacchierata andremo ad aprire iniziamo con create e iniziamo con creare una primitiva vedete che nel momento che io clicco su quello strumento mi viene già rappresentato senza fare alcun tipo di azione in questo caso un box di un metro di base per lato due metri di altezza e la possibilità tra le altre cose di andare ad aggiungere un materiale di settare la scala delle UVs eccetera 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 supponiamo di fare click all'interno di questa scena ok? lo mettiamo qui in automatico il software mi genererà una cartella generated ok? dove metterà all'interno la nostra static mesh ovviamente in questo pannello non puoi disegnare solo ovviamente box ma puoi andarti a scegliere un cilindro puoi andarti a scegliere un cono puoi andarti a scegliere una freccia puoi andarti a scegliere un rettangolo un rettangolo arrotondato un disco una sfera e quanto altro quindi è una cosa molto semplice che ci permette di aggiungere delle geometrie all'interno di Unreal bene clicchiamo pure su complete una volta creata la geometria abbiamo la possibilità ad esempio di andare in Transform e di andare a modificarne la posizione in questo caso abbiamo due opzioni anche quella di utilizzare il nostro classico pannello di trasformazione ma ritorneremo su questa su questa parte qui vedete che adesso il nostro cubo ha un pivot che è spostato perché realizzato da me in quella posizione però io se vado in Transform e faccio Edit Pivot la cosa è semplicissima adesso il pivot è centrale ma se io volessi spostarlo in una posizione qualsiasi ad esempio metterlo qua potrei semplicemente farlo adesso il pivot è spostato qua e ogni qualvolta io voglio voglia operare un'azione di trasformazione sul mio sulla mia Static Mesh lo potrei fare direttamente diciamo attraverso questo comodo le operazioni di trasformazione le puoi fare in modo classico ma puoi anche dirigerti nel pannello Transform vedete che se stai su Scala qui ti appaiono anche questi questa sorta di angolini dove puoi operare delle trasformazioni diciamo così sia sia costanti che non e quindi sia uniformi che non attraverso i propri semplicemente andando sul manipulator aspettando che lo stesso venga selezionato secondo l'asse se vuoi muovere sposti ovviamente questa parte qui se vuoi ruotare sposterai questa parte qui a seconda dell'angolo di rotazione ok abbiamo la possibilità di fare delle primitive facciamo un'altra primitiva giusto per fare una piccola parentesi sulle polilinee voxel sulla modellazione voxel che non è altro che una modellazione fatta a reticoli che dove è possibile poi dopo andare a incrementare i poligoni e quindi la mesh per darne un aspetto più definitivo questo accade un po' in tutti i software di modellazione quando andiamo a creare il modello boolean perché il modello boolean va a tagliare i poligoni in un modo irregolare quindi ha bisogno in un certo senso in un certo senso di essere ridefinita ma torniamo prima di fare questo però io ho inserito nella cartella in modo che ci troviamo già files delle immagini io le prendo magari le metterò stesso visto che tratteremo qui all'interno di lesson 6 faccio una nuova folder la chiamerò img immagini e trasporto queste due immagini che ci serviranno diciamo così a breve nel nostro esempio ok? come dicevo richiamoci ancora nel pannello primitive e andiamo a scegliere questa volta ad esempio una sfera va bene? scegliamo per questa sfera ad esempio una suddivisione di 40 e portiamola all'interno della nostra scena ok supponiamo che sia questa la nostra scena magari la mettiamo in una posizione più accattivante vediamo pure lo slap mettiamola qui mettiamola ma insomma possiamo anche metterla in questa posizione ma possiamo anche scalare un poco penso possa penso possa andare bene ok adesso se seleziono i due blocchi e vado su vox boolean vedete che lui adesso effettuerà l'operazione di ecco vedete la cosa che ogni tanto può succedere in questi casi ma poco male sinceramente non mi era capitato fino adesso ma proprio il bello della registrazione della diretta quindi diciamo che gli oggetti che noi abbiamo creato sostanzialmente lui li lascia nella cartella generated non so perché mi ha restituito questo tipo di errore evidentemente non è ancora una versione del tutto diciamo così del tutto testata non avrei vabbè comunque siamo nel livello 6 torniamo nel pannello modeling non abbiamo fatto sostanzialmente niente prendiamo la la primitiva mettiamola qui e creiamo un'altra primitiva magari di tipo sphere diamo una suddivisione magari di 20 ok diamo un raggio magari di 200 e mettiamola ad esempio in questa posizione andiamo a spostare magari la sfera in una parte qualsiasi tipo questa selezioniamo selezioniamo il cubo e la sfera e andiamo su vox boolean vedete che lui ha attraverso una se ci mettiamo in modalità wireframe questa è molto evidente ha creato la classica mesh di tipo voxel fatta a reticoli triangolari la quale è possibile ovviamente essere ridefinita in maniera più corretta ma ritorniamo nel nostro lit vedete che io ho la possibilità sia di fare una sottrazione del cubo della mia sfera al nostro cubo posso fare l'inverso e cioè b-a e cioè tenermi la parte della sfera questa qui ma potrei anche ad esempio avere un'intersezione questa è la parte che si intersega tra il cubo e la sfera ma potrei anche scegliere di avere una unione quindi di unire tutte e due teniamo per adesso b-a ok adesso vedete che qua attraverso questo pannello se io sposto a 1024 la risoluzione che posso dare diciamo così a base voxel massima vedete che la mia sfera dopo qualche secondo sicuramente avrà cambiato aspetto quindi sarà più definita possiamo adesso accettare quindi questa è soltanto una piccola cosa che vi lascia mostrare come è possibile adesso andare a fare delle operazioni all'interno di Unreal ok questa sfera sarà stata creata insieme al nostro box e quant'altro all'interno di questa cartella generated ma andiamo avanti andiamo su create possiamo anche cancellarla adesso la sfera la potremmo andare a richiamare in qualsiasi momento semplicemente andandola a trascinare nel nostro spazio poi vedremo che cosa si può fare ok andiamo ad esempio adesso in polygon vedete che la modalità polygon è una modalità assai flessibile che ci apre un mondo la modalità polygon e poi dopo come vedremo un'altra modalità poligonale forse ancora più interessante per il mondo dell'architettura e penso vabbè ma questa l'andremo a vedere a breve possiamo metterci in diverse modalità freehand circle square rectangle rettacolo rotondato cerchio e quant'altro supponiamo di metterci in freehand mano libera ok e di disegnare una qualsiasi shape vedete che io posso andarne a leggere anche lo snap in questo caso la griglia e quindi verificarne la ortogonalità magari mi fermo qui e poi salgo e ho creato una forma di questo tipo una forma mano libera che posso creare veramente di qualsiasi tipo ok posso creare la mano libera ok ma posso scegliere se il tipo di estrusione debba avvenire interattivamente o debba avvenire attraverso una estrusione di una data altezza supponiamo che io la voglia vado a fare di 4 metri quindi 400 tutto espresso come sappiamo in centimetri e quindi praticamente che cosa faccio? estruso to weight vado a fare e a disegnare la mia forma in modo del tutto arbitraria ok magari ho uno schizzo sotto vedete che lui automaticamente ha fatto un'estrusione di 4 metri della mia forma o comunque potrei scegliere di avere una flat mesh cioè di una mesh di piano giusto? mi metto qui faccio la mia forma di qualsiasi tipo io chiaramente voglia e ho la mia mesh di piano ok eccola qui mettiamo questa base anziché 20 che sale verso sopra mettiamola a meno 20 in modo che riusciamo a capire quando andiamo a disegnare quando andiamo a disegnare il contenuto vedete che lui ha fatto una mesh di piano andiamo a cancellare anche in questo caso vedete che lui ogni tipo di mesh tu vai a disegnare mi realizza la relativa static mesh e mi da tutte le opportunità che mi darebbe un qualsiasi modello static mesh presente all'interno di Unreal ma continuiamo la nostra chiacchierata abbiamo visto abbiamo un poco guardato la parte relativa ai diciamo così ai poligoni quindi ovviamente oltre alla possibilità di poter disegnare quella quella forma possiamo adottare tutti vari tipi di snap come quello alla griglia al vertice ai lati quant'altro possiamo ovviamente andare ad assegnare un materiale se io adesso volessi ad esempio disegnare un piano con un dato materiale ok andrei sul mio posto e lui andrebbe a disegnarmi una situazione di questo tipo ok adesso c'è un materiale diciamo così emissivo che avevamo realizzato se vi ricordate bene se non erro nella seconda chiacchierata nel secondo capitolo quando abbiamo dato quando abbiamo realizzato quella sorta di uovo con la scritta Unreal bene detto questo passiamo adesso ai polypaths che cosa sono i polypaths secondo me a mio modo di vedere è una rivoluzione supponiamo di avere e poi dopo faremo l'esempio architettonico utilizzando e vi farò vedere come si aprono dei ventagli di opportunità per quanto riguarda la modellazione all'interno di Unreal veramente interessanti ad esempio supponiamo di avere io magari anche una base qua sotto un'immagine jpeg che questo poi è un esempio come ripeto che faremo e andiamo a cliccare sui nostri ad esempio muri perimetrali ma non solo potremmo avere una qualsiasi tipo vedete adesso chiudo clicco si chiude posso andarne a stabilire però io andrei in questo caso ad scegliere un materiale diciamo diverso quindi cancelliamo rifacciamo se lo perdiamo scegliamo un materiale diverso o lasciamo quello standard in su possiamo andare a disegnare una forma qualsiasi posso fermare anche qui faccio doppio click ne scelgo lo spessore e ne scelgo l'altezza vedete che io subito sono andato a realizzare per certi versi dei muri perimetrali ma potrei utilizzare l'estrusione in modo interattivo o come sappiamo potremmo potremmo anche utilizzarlo in maniera costante e dire che sia per quanto riguarda lo spessore width supponiamo di scegliere 30 fare dei muri di 30 cm e sia per quanto riguarda l'altezza fare che abbia poi un'altezza di 320 cm 3 metri e 20 che cosa succede? beh la stessa cosa è facile capirlo basta andare a scrivere sul mio piano lo posso fare anche in una vista top cliccare una volta quando il perimetro è chiuso e avere una forma di questo tipo perfetto o comunque potrei semplicemente avere solo una parte fare doppio click e avere il mio modello alto chiaramente 3 metri e 20 con uno spessore di 30 cm ovviamente oltre mettiamo interattivo di nuovo e mettiamo interattivo di nuovo oltre alla possibilità di fare delle estrusioni abbiamo anche la possibilità di creare ad esempio in questo caso delle ribbon o delle rampe ad esempio mettiamoci su rampa facciamo una situazione di questo tipo do l'ampiezza e poi mi regolo l'altezza che potrei anche stabilirlo potrei anche stabilirla prima con lo stesso concetto no? o constant o creare semplicemente anche in questo caso vedete delle ribbons delle forme geometriche per poter poi magari fare tutta una serie di operazioni bene avete visto come ad esempio mi viene in mente e magari andremo poi a fare un esercizio pratico mi viene in mente la possibilità di poter realizzare in modo diciamo così in modo presso poco istantaneo un battiscopa allora vado su polypath ok stabilisco estrogen come tipo di oggetto stabilisco constant per quanto riguarda la width quindi metto 10 cm 1 cm lo spessore del mio battiscopa e l'altezza la metto costante e metto ad esempio 10 cm 8 cm perfetto vado a cliccare vado a cliccare vado a cliccare vado a cliccare faccio doppio click e e voilà qua avrai il tuo bravo battiscopa ok quindi c'è già solo queste cose lasciano capire quanto effettivamente sia sia stata modificata modificata la modellazione all'interno di Unreal vado a cliccare vado galli vado e canned vado 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 Grazie a tutti.